Il figlio tutto sul pane O tra l' Grenier Si bella forse il nuovo ritorno Tra i topi del diocio il figlio del cucio E' il giusto è certo che prendo un'attesa Credo che ad te l'aiuto che amo sentarsi Vedi la città che c'è un blocco in calcio di base Ci si si viva, che non si ne occhi Aveva, che accendio! Aveva chiesto sempre avrei chiesto prima al campo Per fatto, per fare, per fare i consigliere, i consiglieri di fare la vita. Grazie. Ricordo agli altanti che chi va a mare era il candidato sindaco che andava a valutaggio e nel senso che il suo intervento è stato, la prima, la fine, il prologo per dire al sindaco e alla maggioranza che ha corpente, ovvero, di questa città, è stato un attimo che non ci scontava, sono pronti che non ci lasciavano. Cioè, questo è, cioè, noi ci apprezziamo a, da portare, a reciclare, diciamo, questa ricetta di discorbitare, a ricordito, dicendo che in questo consiglio fondale si fa un sacco di chiacchier, poi aveva la madre di Gesù, di tutto il discorbitante, mischiando, c'è solo una cosa e utilizzando un intervento, utilizzando un partaggio che ha fatto il senatore, che ha fatto il senatore, un partaggio che ha fatto il senatore, ad un consiglio fondale, che quattordici anni fa, quattordici anni fa, quattordici anni fa, quando... Io ho ricordato che la luna, era un ciò che non si chiede, non ricordavo neanche le cose risorse, però, prendo qualcuno, mi aveva chiamato, io ho detto, ok, vabbè, la storia è del senatore, non si chiede, pensavo di essere stato chiaro, ma tutto questo è stato chiaro, ma tutto questo è stato un consigliere pubblico, che ha una bella fascia di trunzo, ha tenuto una posizione, con così come gran parte di voi, perché non ci sono posizionati, ma, a poter dire che non è giudice, questa spiegazione non è parlata, io ricordo che i vostri interventi, che, tranne gli italiani, in causa che abbiamo un po' di contare, si riferiscono tutti all'ordine del giorno, anche gli interventi che ci siamo dispensi, e su questi indietro ci siamo dispensi, chiaramente, in modo corrente, con un'azione e politica che stiamo portando all'antica, dice, guarda, un parco, un parco, un parco, un parco, un parco, un parco, un parco. Non ci può essere, non ci può essere dubbio, oppure altra interventazione, tra l'altro, quello è il modo che si vogliono utilizzare, per strumentare, e per dire, solo anche io, brevemente, mi riferisco a considerare, che mai voi, con questa procurazione, e quella di accontentare tutti, perché non più e poco, tanto, ma di anticonnuità, ecco, lo che questa, la politica, tendenza e tutta l'antica. Allora, io vorrei, io vorrei dire, se proprio ci dobbiamo accontentare, ci andateci su fatti specifici, ma non su delle piatti, che vedete, contando, tutta l'antica del 2008, cioè, vai qui la storia di quello che è successo, va bene, se si riferisce ad un altro specifico, ma se vogliamo trasformare il consiglio comunale, di un disazio politico, dovete sapere che noi non ci sottraiamo, quindi, o mettiamo un uomo e procediamo, e ad un altro, tanto, o per nessuno, si apre il battito, e vi pregherei il presente. Ehi, ragazzi, di aldarci, quando un museo umano viene chiamato in casa, di un altro, tanto, tanto, tanto l'antica del proprio dico e... ... ... ... ... ... ... ... Grazie.